Come prima, è un concetto preso dalla botanica, ci sono delle piante molto resilienti che dopo gli shock ricominciano a nascere. Applicato al sistema urbano ovviamente è più complesso, non è una cosa che ci inventiamo da zero. C'è una comunità scientifica che ha cominciato a lavorare su questo e adesso c'è un progetto supportato dalla Rockefeller Foundation, un progetto globale che riguarda 100 città nel mondo, di cui Roma fa parte, che aiuta le città a mettere in piedi un piano di azione per la resilienza. Grazie a tutti.